Tamponi rapidi, gratuiti e su base volontaria a disposizione di più di 800.000 marchigiani. Oppure test sierologici che ora arrivano anche in farmacia al prezzo concordato di 19 euro. Insomma, dicembre si annuncia un mese senza precedenti in termini di prevenzione e mappatura al covid-19 delle marche. Anzi, i tamponi di massa hanno un solo precedente in Italia. Solo l'Alto Adige, prima delle marche, ha sperimentato una pratica fortemente voluta dal governatore Francesco Acquaroli per superare il ritardo regionale nel processo dei tamponi e arginare definitivamente la seconda ondata pandemica. Acquaroli ieri si era annunciato le date. A Pesaro, così come in tutti i capoluoghi di provincia, si comincia venerdì 18 dicembre. A Fano, come nelle altre città marchigiane sopra i 20.000 abitanti, si continuerà un paio di giorni dopo. Nelle città marchigiane sotto i 20.000 abitanti lo si farà a gennaio. Screening di massa per un obiettivo di 698.651 abitanti nelle città superiori ai 20.000 abitanti, arrivando fino a 819.479 considerando i paesi più piccoli. Tradotto, più di metà della popolazione marchigiana può sottoporsi a tampone gratuitamente e su base volontaria per quella che Acquaroli ha definito uno sforzo notevole ma necessario per isolare il virus. I tamponi utilizzati saranno i test antigenici rapidi, con stick naso e gola, esattamente come i test molecolari. La differenza sta nei tempi immediati di risposta all'esame, che arrivano dopo qualche decina di minuti. Potranno sottoporsi al test tutti i cittadini, ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni. Sono escluse anche le persone positive al contagio negli ultimi tre mesi, chi ha già sintomatologie da Covid-19, chi è in malattia per altri motivi, chi è già in isolamento fiduciario, chi ha già prenotato un tampone molecolare e chi già si sottopone a test per motivi professionali. Si sanno le prime date, ma tutto il resto è ancora in fase organizzativa, dal coinvolgimento di Croce Rossa e Asur ai luoghi in cui effettuare lo screening di massa. A Pesaro si valuta l'ipotesi della vitrifrigoarena, a Fano quella del Codma.